Ho molto piacere stasera a presentarvi un gruppo che non è data stessa a mezzano, vengono da Tunis, si chiamano Armada Biserda, è un gruppo che è fatto di colonna solona della rivoluzione tunisina, il loro club è data bolognese dopo hanno fatto il primo tour in Francia e a Roma erano questi giorni, ha fatto il primo maggio, è prima data per l'onore di fare la città. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti